Con il direttore generale del NOLA Giovanni De Micco, direttore NOLA una piazza blasonata che negli anni 90 addirittura ha sfiorato di raggiungere la serie B in C1. Che cosa dobbiamo aspettarci noi ma soprattutto anche i tifosi da questo progetto nuovo? Chi è stato domenica a vedere la nostra prima gara all'esordio in Coppa Italia contro il città di Sant'Agnello ha visto un pubblico straordinario che sicuramente sta stretto questa categoria. Quindi io spero con il mio impegno e con il gruppo che abbiamo costruito di portare il NOLA prima possibile più in alto dove praticamente merita. Quest'anno la ritroviamo nelle vesti di direttore generale, non ci dimentichiamo anche le sue esperienze pregresse come presidente. Che cosa è cambiato in Giovanni De Micco? Da un punto di vista calcistico nulla perché quando facevo il presidente mi sentivo più un direttore che un presidente. E' lo stesso anche qui, praticamente abbiamo costruito un buon gruppo, spero con le stesse caratteristiche del mio CTL Campania possiamo raggiungere ciò che il NOLA merita. Umiltà, concentrazione, spirito di gruppo. E' quello che vorrei far vedere in mezzo al campo. I tifosi devono vedere una squadra che suda la maglia dal primo all'ottimo minuto al di là del risultato. Al di là se ci sono più gol di vantaggio, se bisogna recuperare. Spero di trovare una squadra allo stesso modo concentrata per 95 minuti. Lei è sempre stato un mentore per i giovani. Continua in questa nuova avventura la sua idea o cambierà e punterà magari su qualche over? Sì, abbiamo anche una squadra abbastanza giovane. Non ci sono forse dei furi classe o qualcuno magari al di sopra di ogni... E' un gruppo molto molto equilibrato. Questo è quello che è sempre a me piaciuto. Questo è un anno zero anche dal punto di vista giovanile. Spero che negli anni si possa fare quello che abbiamo fatto con il CTL Campania anche. Vince i campionati junior e se ne abbiamo 23 speriamo di fare lo stesso anche con il NOLA. Sabato la prima, auguriamoci allora tanta fortuna al NOLA. Crepi, la vostra TV è sempre stata per me un portafortuna, anche la tua presenza, quindi lo spero fortemente. In bocca al NOLA. Crepi.